se vuoi sedurre una donna attraente devi prenderti tempo prenditi tempo perché non devi darle assolutamente l'impressione che sei bisognoso che l'insegui che sei caduto sotto il suo fascino fondamentalmente tieni presente che le donne attraenti normalmente sono donne alfa che si sentono dominanti e quindi vanno a ricercare un uomo alfa plus direi un uomo ancora più dominante di loro vanno a ricercare quel grande cesare che può scalzare tutti gli altri cesari e quindi devi dimostrare questa tua superiorità diciamo così e quindi come fare dimostrare intanto ci sono due fasi uno in cui devi invitarla diciamo così ad uscire la seconda fase in cui devi uscirci e forse diciamo potremmo dire una fase zero in cui devi conoscerla nella fase zero in cui la conosci il tuo obiettivo è quello di arrivare diciamo ad avere un contatto qualunque esso sia e quindi vai a studiare le fasi d'approccio che ho spiegato in altri video una volta che sei studiato le fasi d'approccio sei riuscito a recuperare un contatto sia facebook sia telefono quello che è insomma mail devi in qualche modo prima manifestarti farti conoscere ma di lui con cose diluite abbastanza nel tempo senza stare lì a fare pressing perché nel momento in cui fai pressing ti uniformi al greggio e quindi non ti differenzi non diventi il grande cesare diventi un piccolo cesare e una volta che insomma sei riuscito in qualche modo a comunicare con lei inizia a farle qualche proposta per uscire ma mettendola sempre in come dire in coda ad altro se riesco a liberarmi di qua magari ci vediamo facciamo e poi così ti chiamo insomma e la lasci lì nel poi il ricontatti dice no sai l'altra volta poi avevo un impegno non sono riuscito a contattarti ma ci rivedremo insomma ti farò sapere e diluisci un po così nel tempo la cosa insomma e prima o poi capito che insomma in qualche modo lei anche un po incuriosita sicuramente perché stai già interrompendo un po lo schema e uscirai con lei a questo punto normalmente i maschi quando escono con una donna attraente cercano di fare favilla di che ne so portarla nel bel ristorante per una cena romantica e dimostrano insomma di fare un po tra virgolette i cavalieri serventi quelli che invece non dico che deve avere lo scazzo e che deve arrivare diciamo a puzzare perché non si è fatto la doccia per tre giorni prima di uscire con lei ma devi comunque dimostrati leggermente trasandato cioè non uno che si è tirata lucido per per vederla magari con la barba un po sfatta e le sbadigli ogni tanto in faccia ti fai vedere che sei comunque che lei non è al centro della tua attenzione magari la porta in un posto dove magari conosci altre donne per dire che non deve essere una betola o un kebab da sporto ma neanche come dire il ristorante più ristellato e quindi lì magari ci sono altre donne che magari vengono a parlare con te tu rivolgi magari un po loro l'attenzione le dai ogni tanto la schiena insomma metti in atto una comunicazione non verbale un po penalizzante insomma però l'importante è che poi ti fai vedere a certi in certi tratti anche brillante per cui e metti in atto le tecniche della pnl inizi a ricalcare inizi a usare la kinescalation a generare il contatto fisico anche casuale in modo tale da dare degli stimoli per cui anche qua ogni tanto la spiazzi perché a tratti diciamo come nelle partite che dicono a sprazzi è giocato bene a tratti tiri fuori tutte le strategie tutte le tecniche a tratti ti dimostri un po tra virgolette con lo scazzo uno che insomma che non è che sta lì che non ha questa necessità di fare le cose insomma ripeto è molto importante che però inserisci dei semi diciamo buoni in mezzo a inserisci dei semi di brillantezza ti fai vedere come una persona che anche una forte interiorità perché poi di solito magari sono abituati a uomini che manifestano molte esteriorità e hanno poca interiorità e quindi entri anche su argomenti diciamo che possano coinvolgerla emotivamente quindi che emotivamente possano dare le emozioni farla piangere farla ridere fondamentalmente la fai parlare molto la fai aprire perché più parla più si apre meglio è e poi detto questo ecco una cosa consigliabile anche cambiare magari diversi posti perché se acquisisci familiarità se prima ti porto che ne so in una batteria poi ti porto in un altro locale poi a vedere la luna sul mare poi a fare un'altra cosa è quasi come se fosse uscito con te quattro volte a fare quattro cose diverse per cui acquisisco si acquisisce rapidamente quella quella confidenza no per cui ad un certo punto diventi anche se queste cose qua durano poco insomma è molto meglio cambiare che passare due ore seduti nello stesso bar perché appunto è riferita a uscita se ti porti in quattro posti anche vicini insomma senza fa acquisisci subito molta più familiarità conviene portarli in posti che tu conosce che lei non conosce in modo tale che tu sei nel tuo territorio di caccia diciamo così dopodiché niente la compagna a casa magari lei ti aspetta pure che tu ci provi perché fa anche piacere a una donna dire no ma che stai facendo ci stai provando e invece niente e quindi proprio da quel punto di vista lì non fai nessun avance logico e razionale magari ha inserito qualche diciamo contatto fisico casuale qualche toccamento casuale ma sempre sempre senza mai provarci ovviamente e dopodiché una volta che hai fatto questo la accompagna a casa e dice no adesso ci sentiamo che un po di cose da fare e dai di nuovo mantiene un contatto diciamo così più che altro spot virtuale fin tanto che poi sarà lei prima o poi a manifestare l'esigenza di vederti nel momento in cui manifesta l'esigenza di vederti diciamo che la seduzione è scattata hai il feedback che puoi diciamo che semaforo è verde puoi approfondire il discorso bene per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo seguimi anche sul blog seduzionevip.com ciao